Che buio c'è? Scolo! Quello è l'unico falò... Quello potrebbe essere un falò, una mumia fiammeggiante. Ecco, qualcuno m'ha già visto, ad esempio. Devo accendere una torcia. Cos'è che mi attaccava, soprattutto? Almeno ho un po' di tempo per le torce. Mamma mia. Io qua sto andando in giro a caso, no? Sembra una città infame, veramente. Mamma mia, mamma mia. Un falò! Sì. Sì. Abbiamo trovato un falò proprio a caso. Questo è addirittura dopo, scolo. Ma sì, ormai siamo qua, dai. Teniamocelo via, perché poi altrimenti so già che non tornerò mai più. Ok, possiamo... Lì c'è qualcosa. Escrementi. Ho letto bene per 25, tipo. Quello? Wow! Mi sa che i giochi che ho perso del Game Boy sono finiti qua dentro. Qua tutto che crolla. Salto? Sì, sì, convinto. E saltiamo, se c'è da saltare. Cosa devo fare? Dammi delle torce, però. Ok. Ascicliamo di camminare. Uh, vedo della nebbia, di già. Odio dover girare a caso. Che cosa sei? Vabbè. Vabbè. Sei morto, però. Non so che cosa sei, ma sei morto. Proseguiamo, proseguiamo, proseguiamo. Dicevo, con una mano tengo la torcia, quindi non posso tenere lo scudo. La zona è stretta per rotolare. Ho continuamente tizi che mi sputano dietro il veleno. E adesso dove devo andare? Oh. Mi sono perso. Strano che sono avvelenato. Beh, lo accendo ma non faccio rispannare i mostri, sti cazzi. Vabbè, io mi riposo perché non so assolutamente dove devo andare. Non c'è una via qua. Una domanda. Come faccio a girare qua dentro? C'è un sacco di roba e non si vede un... Bene. Aiutatemi. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti nella Blingland di Dark Souls 2. È un po' che non ci giochiamo, bisogna riprenderci un po' la mano. Mi ricordo praticamente che dobbiamo andare nello scolo. È lì che mi sono fermato l'ultima volta. Scolo superiore, scolo centrale. È una zona molto buia e non so dove andare, quindi girerò molto a caso. Quanta oscurità. Accendiamoci una torcia e per fortuna abbiamo ancora un'ora e mezza di torcia. Cioè, la parete... Trasuda. Lento. La parete... Trasuda, schifezza. Ancora? Con funghi. Ah... Maledetti. Oddio, questi attaccano. Gli altri spruzzavano e basta. Che cos'è? Che cosa sarebbe quella cosa? È un insettone? Mi caga se ci passo vicino, no. Proviamo ad ucciderlo? Qua c'è qualcosa. Muschio. Muschio. Ok, praticamente è un insettone e penso che questo mi avvelena. No. Non fa niente. Cosa spruzza? Ah, io provo ad attaccarlo. Ha subito danno ma... Sembra non fregarmene. Io lo ammazzo, mi fa schifo tra l'altro. Ah, che brutto. Eh, lui muore ma non gli interessa proprio niente. Va bene. Spero di non aver fatto qualcosa di malvagio. Muschio velenoso? Cosa dice il messaggio? Lacrime. Boh, si è fatto uccidere. Amico. Nooo. Ho fatto una stronzata, vero? Scale che scendono. Forse ho preso la scala giusta perché qua c'è altre due scale. Vedo un drop. Andiamo giù. Ok, non c'è del veleno. Oh, però c'è questo. Listo. Perfetto. Baule più avanti. Sì, secondo te ti... Bastardi che siete... Toh. Ti meriti questo. E non pensare che mi sono dimenticato di te. Ma c'ha la spada tipo... Con un'aura nera. Boh. Coltello da lancio avvelenato. Ok, dentro questi bauli c'è sicuramente... Bauli, sì. Gemma vitale. Dicevo... Ne ho trovate tante o sbaglio? Va bene. Dicevo... Ho letto baule più avanti, ma non vedo nessun baule. Questo si alza. No, è quello che ho ucciso. Dentro queste anfore è sempre meglio guardare. Infatti adesso abbiamo trovato una torcia e la nebbia oscura. Questi cosa sono? Oh, oh, oh! È uscito qualcosa di... Fai attenzione a rotture equipaggiamento in breve trappola. Mi sa che quella roba lì... Butta giù il mio equipaggiamento. Quindi metto sul binocolo... Oggetto a rischio cotta di drallic. Ah... Maledetti. L'elmo proprio rotto? Spero di poterlo aggiustare. È l'elmo con la piuma. Ok, bisogna cambiare equipaggiamento quindi. Quindi, adesso io mi spoglio un attimo. Ah, porcelloni. E... Qua cosa c'è? Oggetto a rischio anello della cloranzia. Anche gli anelli? Non ci posso credere. Ah... Questa trappola mi ha... Sorpreso. Andiamo avanti, vediamo come possiamo sistemare la cosa. Devo cambiare tutti gli anelli. Va bene, dai. Così equipati, andiamo. Ram profumato del passato. Adesso ne ho veramente tanti di questi rami. Penso due o tre. E di tizi pietrificati io me ne ricordo solamente uno. Questi? Sei pronto? Via di fuga più avanti, prova salto. Falò più avanti, falò più avanti. Speriamo che dietro questa nebbia ci sia un falò e non un boss. Va bene, entriamo nella nebbia. Uff. Niente boss. Gola nera. Un falò. Possiamo... Rimetterci sul nostro vecchio equipaggiamento. Sì, ho perso un'ora a cambiarmi tutto per poi dover rimetterlo. Quindi... Ma che cos'è? Ma dove? Ma cosa? Ma chi soprattutto? Ma non capisco... Chi sputa il veleno? Ok, questi buchi... Oddio, no, 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 no. Ho fatto una stronzata. No, una presa! Sono morto. Non ci posso credere. Questa zona sarà odiatissima. Non ci posso credere, mi ha preso un'altra volta. Ti prego, muoviti, ti prego, muoviti. Eff. Mi è anche crollato il joystick di... Ah, sono loro che spruzzano. Va bene. Cavoli vostri, lo siete cercato. Siete veramente insopportabili. No, se ero un mimic. Ok, non ero un mimic, meno male. Shot tail... E arma magica migliorata. Arma magica migliorata, sì! Ho un nuovo incantesimo da mettermi. Tu sei l'amico di quello che ho ucciso? Che c'ho la pelle d'oca, non potete crederci. Oh, 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 oh! Oh, alè! Sparisci, non farti più vedere. Comunque, che schifo! Ah, io non ci posso entrare. Sì, ci posso entrare, ma non so neanche cosa c'è. Quindi direi di non entrarci. Grande anima. Frammenti vitali? Frammenti vitali? Ah, è una magica. Secondo me c'è solo un buco. Un buco. No, no! Dai, ma quanti ce ne sono! Tra vermoni e... Questo è il posto che preferisco. Questa sembrerebbe una strada. Oh? No! Esce il vermoni e mi fa cadere. Dov'è la cosa della luce quando serve? Eccola qua. Oh, una caga do... Un falò! Fico! Ah, c'è ancora l'invento riaperto. Visione di boss. Punto debole fuoco. Accogliamo l'oggetto. Petra di Pharos. Bene. Accendiamo il falò. Senza causare il respawn di tutti i nemici. E sono curioso di vedere questa. Dove mi porta... Un'altra zona, praticamente. No! È sopra... Sopra quello dove sono arrivato. Ok. Ok, siamo riusciti a non farci avvelenare e di non risvegliare nessuno. Oddio, oddio, oddio. La bandana. Un filmatino addirittura. Oddio! Che cosa sei? È una massa in forme di... Corpi! E... Me... 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 è un fottutissimo macellaio fatto di corpi umani perchè è inquietante ho switchato lo scudo almeno si oh se lo faccio passare sopra il fuoco che male che mi fai passa sopra il fuoco dai perchè ho perso vita no sopra il fuoco non fa male che mazzata è già finito il potenziamento questa era una presa ma non devi schivare lì indietro poi come fa a passare sul fuoco e non farsi niente me lo spieghi scusi oddio 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 quasi mi prende no pensavo in un secondo slash ma in realtà i fiendenti lo dice sembra no 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 vomita attenzione sta vomitando no 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 questo vomita cose brutte secondo me attenzione mi manca non vomitare hai fatto serata ieri attenzione questa volta mi ha preso e mi ha fatto male chissà che si vomita questo era grosso come colpo no devi smettere di usare i malocchi allora bisogna schivare i suoi colpi assolutamente perchè fanno veramente male ecco beh questo cioè non so sembra tipo Laura di Nito non so come posso schivarla cioè probabilmente dovrei allontanarmi in fretta questo attacco secondo me fa un male assurdo ma comunque si chiama il putrido non l'abbiamo ancora detto e vabbè non c'è stata occasione di leggere il suo nome e il putrido però è morto no non ci posso credere fuck fuck ce l'abbiamo fatta accolta anima speciale e dopo una vita che non giocavo questo rumore dopo una vita che non giocavo praticamente a Dark Souls 2 perchè sto giocando adesso che è il 3-4 maggio ed era veramente tanto che non ci stavamo giocando abbiamo ucciso un antico secondo me qua fa malissimo prova 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 male 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 no assolutamente seme del fuoco bene questo ci aiuterà a potenziare la piromanzia quando avrò due slot uno sarà per la piromanzia sicuramente però ho sicuramente dimenticato qualcosa nello scolo e quando avrò un po' di tempo andrò sicuramente a vedere cosa c'è indietro prova a destra mi consigliano è tutto buio è un mimic no io c'ho la fissa per i mimic dentro lo troviamo polvere d'osso sublime e vai le fiaschette arriveranno a più 4 come un sogno ma ce l'ho fatta beh il putrido non era forte però era abbastanza oh lì vedo uno dei falò che preferisco eccolo là è un falò primordiale d'altronde l'anima era speciale però voglio illuminare la zona anche se poi magari non c'è niente eh per guardarmi attorno avevo paura di trovare un buco più che altro è una stanza circolare senza niente di particolare un po' come lo era la stanza dove ho trovato il falò dopo la peccatrice falò primordiale acceso sono parole bellissime e dopo la peccatrice anche il putrido è finalmente un trofeo falò della gola cerchiamo di sistemare il mio elmo con la piuma perché voglio l'elmo con la piuma non ci resta che sedere a questo falò e trovarci nel prossimo video ho battuto il putrido il putrido il putrido sono bloccato tra te e un baule abbiamo lo stesso elmo oh giusto ho il mio elmo fabbro fabbro fai qualcosa fabbro ripara armatura si ho di nuovo la mia piuma sono contento come un beyblade beido